ci sono un sacco di persone che hanno creato falsi miti ci sono un sacco di autori che hanno creato una clac c'è persone già addestrate ad applaudire anche quando il prodotto è inconsistente dico il prodotto a livello anche mentale a livello concettuale, a livello di design a livello di progettazione quando non è qualcosa di eccelso comunque, oh, nome brand, ha parlato oh, il team creativo, ha fatto Erger, purtroppo bisogna essere obiettivi no, purtroppo, purtroppo per loro diciamo, bisogna essere obiettivi cioè bisogna che guardiamo in faccia sempre la realtà ricordatevi, solo la realtà è reale non le nostre proiezioni mentali non quello che ci aspettiamo non quello che desideriamo quello che desideriamo è nulla non esiste questa roba esiste l'obiettivo che ci siamo prefissati certo, perché è la direzione e poi esiste solo quello che siamo riusciti a fare a mostrare e a dimostrare ok? torniamo alla slide ripeto questa è una parte nella quale cadono anche autori molti esperti navigati perché rispondono alle richieste di mercato che esiste nella loro testa anziché porsi reali domande sul contenuto del gioco e stanno scrivendo grazie a tutti Grazie a tutti.